Con il numero 1 Zanellato, con il numero 2 Corna, con il numero 3 Josu, con il numero 4 De Angeli, con il numero 5 Grea, con il numero 6 Porcari, con il numero 7 Pagano, con il numero 8 Coadio, con il numero 9 Falla, con il numero 10 Geroni, con il numero 11 Fusi. Roche, 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 come la potencia, roche, 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 rotas, cart Vero se viene fuori! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.